Buongiorno e ben ritrovati alla nostra quasi quotidiana rubrica Unelimerica al giorno du 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 da da da. Stamattina ho cambiato postazione, mi sono messa in cucina pensando di preparare un po' di colazione per me e i ragazzi. Ho aperto la dispensa e ho trovato Fagioli rossi Estrazioni dell'otto Pomi d'oro Tonno Sarà una colazione alla Bud Spencer e Terence Hill Mi toccherà andare a fare la spesa e come tutti si sa mascherina, guanti, scafandro Pensavo di procurarmi addirittura una tuta in TNT come quella degli imbianchini E l'outfit della primavera 2020 va per la maggiore Si farà anche questo A proposito di questo virus, a prochiudo un piccolo inciso Ho visto un video di Carlo Cracco che suggerisce una ricetta antivirale Antivirale e siamo arrivati a questo, non so cosa dire, la gente pur di apparire non sa cosa inventarsi Propone Carlo Cracco questa semplicissima ricetta Un'aringa salata su un tappeto di aglio in crosta Non so se funziona come antivirale ma di sicuro aiuta a mantenere quel sano metro di distanza Potremmo anche evitare di provare Non so se vi ricordate la pubblicità dei Ferrero Rocher che andava per la maggiore Una delle prime di questa signora elegantissima, blasonata, seduta sul sedile posteriore di una limousine Che rivolgendosi al proprio autista dice Ambrogio, ho un certo languorino, non è proprio fame E Ambrogio, socia signora, vuole un pane al culatello Ambrogio, sono vegetariana Che cosa ci posso offrire? Un bel bicchiere di lambrusco che la vedo pallida, è sciupata Ambrogio, sono astemia E che cosa può... Ho un'idea, una bella fetta di tiramisù Che mi sembra tutta secca come un grissino Bisogna rimettere su cizza Ambrogio, sono allergica ad atosio E Ambrogio, trattenendo un insulto dal galantuomo quale egli è Ci pensa un attimo e poi dice Sorbole signora, ci sono Ci posso offrire un limerick? Ambrogio, tu sai come sedurre una donna Bischeraccio E così le propose questo preciso limerick C'è un utente della biblioteca di Monpiano Che ama molto il pesce Ma di questi tempi, si sa, di casa certo non esce Si mette quindi al balcone con canna, retino e lenza Aspettando che qualcuno torni dalla spesa Scrutando l'orizzonte con pazienza Non appena scorge un branzino, un polpo delle cozze Sbucare da una sporta Lancia la canna all'azzo con mira accorta Peccato che oggi, per i sbaglio Abbia pescato solo cipolle Anitra, vici Un cespo d'aglio E mi permetto di offrirvi un piccolo bonus C'è un tale Di un paese di cui non ricordo il nome Che lustra ogni giorno il suo veicolo Con cura e passione Impomata ai sedili Mette il rimmel agli specchietti Poi si mette alla guida del bolide luccicante e bellustrato Ingrana la marcia Sorride compiaciuto e Essendo in quarantena Fa il giro dell'isolato Ma anche se nessuno lo vede Il suo cuore è gonfio di orgoglio e soddisfazione Grazie a tutti Buona giornata A presto